In Italia negli anni 70 c'è stato un forte desiderio di cambiamento espresso con le modalità nelle quali questo desiderio si esprime in una democrazia rappresentativa, scioperi, manifestazioni di massa, i sindacati che cercano di modificare a loro vantaggio i rapporti di potere nelle fabbriche, erano stati a lungo e marginati in tutti gli anni 60 e poi ancora i movimenti collettivi delle donne, i giovani, insomma un sommovimento sociale che poi ha avuto la sua traduzione elettorale, il referendum sul divorzio del 74 e le forti affermazioni della sinistra nel 75 e nel 76, quindi abbiamo il quadro nel quale inserire la lotta armata è quello di una democrazia rappresentativa che avverte bisogni di cambiamento in numerosi strati sociali e in una parte della stessa classe politica e che non dando delle risposte efficaci a questa situazione si trova di fronte a una esasperazione anche del conflitto sociale attraverso la lotta armata. Le BR ebbero un parziale inserimento in una serie di fabbriche soprattutto dal nord, ma anche a Roma, anche a Roma, agli ospedali, in settori della pubblica amministrazione e nel nord da Porto Marghera a Venezia, alla Fiat a Torino, passando per Milano, per la Pirelli, per la Lora Sissim, da dove vengono Moretti, la Besuschi e alcuni. Questo è il quadro, quindi un fenomeno soprattutto italiano e che si può spiegare in parte con le insufficienze della risposta che il sistema politico italiano dà a questo desiderio di cambiamento, che era un desiderio di cambiamento dal mio punto di vista assolutamente riformista, non c'era nessuna aspirazione rivoluzionaria, questi movimenti ignoravano il termine dittatura del proletariato, le stesse primi gruppi che si formavano nell'università, quelli che poi diventeranno appunto Potò, come ha citato il senatore Lotta Contina, non avevano affatto il modello sovietico, di fatto avevano innescato un meccanismo che in altre situazioni si è poi trasformato, come anche in Francia dopo il famoso maggio francese, in un incentivo alla evoluzione e alla razionalizzazione del sistema politico. In Italia non siamo stati all'altezza di farlo e anche per questo questa estremizzazione della lotta armata è andata avanti dall'inizio degli anni 70 fino all'inizio degli anni 80 al sequestro d'Osser appunto ed è poi proseguita per alcuni anni fino nell'88 all'omicidio Ruffilli. Va aggiunto che questa situazione di movimento della situazione italiana, questo desiderio di cambiamento si inserisce in un contesto internazionale che nel Mediterraneo è pure di movimento. Da Lisbona al Portogallo dove si ha il fenomeno abbastanza singolare che mi è capitato di studiare altrove di un regime autoritario di destra rovesciato da militari progressisti, che di solito avviene il contrario, di solito ci sono regimi democratici rovesciati da militari reazionari. In Portogallo abbiamo questo abbastanza singolare fenomeno di ufficiali ammaestrati dalla guerra coloniale che rovesciano un regime autoritario e danno avvio in Portogallo, presso una serie di vicende specifiche, poi a un regime democratico che funziona dottora. All'altro estremo del Mediterraneo, e qui si inseriscono le osservazioni che ha fatto il senatore sul Mossad, il conflitto arabo-israeliano, che nel 72-73 è la guerra del Kippur Ramadan, che fa correre per alcuni giorni Israele un serio pericolo, è la prima volta nella quale l'Egitto e la Siria per i primi giorni hanno una certa capacità competitiva con l'esercito israeliano. In mezzo poi ci sono varie situazioni preoccupanti, dal dopo Franco in Spagna al delinearsi del dopo Tito in Jugoslavia. Quindi il quadro circa il quale anche questo il senatore Pellegrino ha chiesto anche dei contributi su questo quadro generale, per il quale la difficile situazione italiana in evoluzione si colloca in un contesto del Mediterraneo, dal Portogallo al Medio Oriente di forti trasformazioni e matura, proprio mentre sequestrano Moro, matura anche la rivoluzione iraniana. Quindi questo ha fatto supporre che l'Italia, oltre a essere quella frontiera appunto della quale il senatore Pellegrino ha parlato in tanti sensi, dall'estere al confine tra l'este e ovest a ospitare il Vaticano, avviene in un contesto nel quale in quest'area c'è un movimento in atto e anche in potenza che certamente destra l'attenzione delle grandi potenze e dei loro servizi segreti. Preso atto di tutto questo, però tutto questo ha fatto nascere secondo me una leggenda, che la situazione italiana suscitava tali preoccupazioni, le possibilità di cambiamento potevano essere di natura tale, tanto da dislocare l'Italia dall'uno all'altro campo di quella che era allora ancora la guerra fredda, da mettere in atto un complesso meccanismo con la CIA che non voleva i comunisti al governo, col KGB che non voleva i successi dell'eurocomunismo di Berlinguer che potevano essere uno stimolo di riflessione o di movimento per le cosiddette democrazie popolari. Insomma l'Italia diventava un campo di battaglia di una contesa cosmica per la quale sarebbe stata organizzata una sorta di congiura che vedendo in moro il protagonista di quest'operazione che attraverso l'ingresso dei comunisti al governo avrebbe portato a dislocazioni che in un modo o nell'altro avrebbero danneggiato gli indirizzi politici sia degli Stati Uniti che dell'Unione Sovietica che le BR sono state usate come strumento di questa cosmica congiura. Io non credo a questa tesi che però è molto diffusa anche ancora in questi giorni, ho partecipato a una serie di incontri proprio in occasione del trentesimo anniversario, ma lo viene rapito il 16 marzo, l'era ucciso il 9 maggio e quindi bisogna tener conto che questa è una delle estremità delle interpretazioni che ci troviamo di fronte e che rendono difficile capire tutti gli aspetti di questo fenomeno. All'altra estremità invece ci sono coloro dai begatisti, ma anche per esempio libri come questo abbiamo avuto un dibattito, un'odissea di Imoro, di Vladimiro Satta o per un altro verso Rossanna Rossanda, i quali sostengono che invece no è tutto chiaro, le BR erano un'organizzazione armata nata nella sinistra italiana, rivoluzionari duri e puri che hanno fatto da soli quello che hanno fatto. Quando dico da soli vediamo qual è il panorama complessivo di questa organizzazione, a questo punto parliamo non solo di Brigate Rosse, ma anche di Prima Linea e dei vari gruppi e movimenti armati di minori dimensioni, forse lungo un decennio 4, 5, 6 mila combattenti, un apparato logistico di circa 15-20 mila persone e un'area di simpatia forse attorno alle 100 mila, queste sono le valutazioni sulle quali soprattutto negli ultimi anni tendono a concordare gli studiosi del fenomeno, però soli vuole dire, secondo questa versione, che tutto quello che è accaduto è chiarissimo, questo gruppo con questa consistenza ha fatto tutto, ha fatto le decine di attentati, ha rapito Moro, ha tenuto in scacco per 55 giorni lo Stato italiano e così. Io credo che da un lato sia infondata la tesi del complotto mondiale, ripeto è una situazione italiana, ma le BR hanno avuto oltre a questo, le BR non prima, a questo punto non prima linea, la differenza tra le BR e le altre organizzazioni è che un'operazione come il sequestro Moro è del tutto particolare, nessun'altra organizzazione ha potuto nel corso di un'attività che è durata grosso modo un decennio, investendo l'intera società, si è chiusa con Doger, come citava il senatore Pellegrino, una fase, le attività delle BR sono state sporadiche, ma per un decennio sono state un problema centrale di un sistema politico. Grazie.